Il sacco di cristianesimo Questa è la carta del sacco che si tratta di un sacco Questo è l'aspiratore Questo è quello che aspira le castaglie La pazzaretta è piena. Quelle cazze in visita di giocchi, queste sono biette. Non so, 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 però non so, è un po' di più. perché hanno iniziato le zartagne e le zartagne magari hanno dei verzi o delle cose che sono proprio pulite. Allora, in fine fiume, il fiume ci sono i microbi di zartagne. Poi, nella gizzea del giorno, fiume, fiume del fiume. Poi, tessere il cuverchio e fare circa 1000 Hz. La gizzea del fiume Io voglio essere in cammino che battere le zartagne, quelle che sono le sorchiaie della griffa, per portarle giù le impianti, che è più comodo nelle macchine per cui battere. La prima macchina che ho imparato è quella che batte. È una centrifuga che batte contro la parete, che ha dei denti e guarda già la pia marrone della zartagne. Poi, passiamo a Rutta, la seconda, che è una ventola, che tira via lo carpeù. E tira via la porcheria della zartagne. E poi, a mezzo, il pioca dei poti, e le bue e le grame, poi l'olio dell'iver, si servono. E anche il grame, ce due pochette, non è meglio le vecchie. E le bue per le battute d'acoste, per fare da menzì e tutto. e ora se io casco col petto sarete tutte e se mettiamo da costa per me che vanno un po' che magari hanno un paio di carpe rosche sopra si può fare fauna e così invece le mettiamo da costa le maciniamo e fanno fauna ma per le vecchie come quelle grame ecche io basta senza trovare l'olio più che l'olio io vado a paghino a fare ecche che se io soggiorno delle macchine per harde ne può